ciao a tutti questo progetto di legge rivolto a tutte quelle persone che hanno un animale d'affezione come ben sappiamo gli animali d'affezione sono un grande aiuto per le persone sole per gli anziani e anche per le persone affette da patologie però molto spesso queste persone hanno problemi economici e quindi non possono fornire assistenza sanitaria a questi animali con questo progetto di legge chiediamo a regione lombardia di fornire un assistenza veterinaria gratuita basata sull'ise del proprietario aspetto i vostri contributi per migliorare questa legge